Benvenuti di nuovo a questa veia e per condividere questo tempo e questo spazio insieme è buona la creanza, sempre portare qualcosa da condividere con gli altri è il tempo della miseria, è il tempo dell'aricchetto c'era la vita e la casa era la valle e noi ci siamo dimenticati che al tempo prima anche gli altri più mistura, maira, granno erano delle divinità ed erano rispettate questo è il fatto che al tempo della miseria si sapeva quello che si faceva e si faceva quello che si sapeva e quindi questo brindisi vuole essere a questi due animali, alla mucca in particolare se nonoe se vanno mi sono di e io questi canti come se ci hanno solo delle cose che ci fanno ricordare che noi siamo una nazione e ancora oggi appunto ci riconosciamo in questo grado grazie